Terzo turno di Lega con una Big. La Dinamo è chiamata a confermare stasera in Trentino i primi due successi affrontando l'Aquila Basket Trento. La squadra, allenata da Brienza, guida la vetta della classifica come il banco ma nei primi due turni ha sofferto più dei sardi. Vittoria casalinga col Pistoia e rimonta nel match di Reggio Emilia per il roster bianconero, mentre la Dinamo vanta due partite incamerate con largo margine. Per la squadra di casa da registrare anche la sconfitta di misura a martedì in Euro Cup contro la carazzata turca del Galatasaray. Entrambe le formazioni fanno male in attacco, James Blackmon Jr. e la rivelazione mezzanotte da una parte, Bilan e Pierre dall'altra solo per citarne più in palla al momento. Ma i trentini mostrano crepe in difesa e potrebbero alla lunga soffrire la fisicità dei sardi. Si annuncia quindi una lotta piuttosto serrata nel perimetro del pitturato, con ampi spazi liberi lasciati ai tiratori dall'arco, come il già citato Blackmon e il new entry Gerrers per i sassaresi. Una sfida quasi ad armi pari, dove un maggior valore tecnico della Diemo è bilanciato dal fattore campo per l'Aquila. Al palatrento andrà anche in scena il duello fratricida fra Alessandro e Stefano Gentile, col primo tassello irremovibile per Brienza e il secondo impiegato spesso come Jolly da Pozzecco, con risultati decisivi in particolare nella seconda parte dell'ultima regular season. Un test di rilievo per il banco in cerca di assetti automatismi da consolidare in vista della lunga stagione che l'aspetta.